Oggi ho ufficialmente 27 anni, più nello specifico il 25 dicembre alle 22.30 ho fatto 27 anni e mi sembrava una cosa carina e anche utile allo stesso tempo dare uno sguardo a ciò che sono stati i miei 26 anni e vedere un po' cose accaduto le cose positive che sono successe ma anche ovviamente le negative ma soprattutto un po' le positive perché è vero che ho tendenza, come tutti credo, a ricordarmi per la maggior parte il negativo perché se per sé nonostante io abbia un po' detestato questa fine d'anno sono successe molte cose comunque anche belle e ho soprattutto delle mini vittorie personali che mi hanno fatto molto piacere e che appunto penso valga la pena ricordarsi Allora, fine 2022, inizio 2023 appunto dove ero nella mia vita stavo appunto finendo ancora il mio secondo anno di BP parrucchiera qua a Strasburgo ed ero in un salone, posso dire il nome, tanto parlo in italiano non lo capiranno mai il self-coaf di Strasburgo, esperienza che era iniziata bene ma che a causa della mia lentezza che poi ho capito più tardi nell'anno, ne riveniamo poi sopra dopo a causa della mia lentezza con la capa, con la responsabile del salone le cose andavano sempre più peggiorando quindi diciamo che andavo a lavoro ma avevo sempre un po' questa quasi dice la boule dalle ventre quindi proprio avevo l'angoscia, l'ansia, lo stress e il tutto perché essendo un salone dove bisogna andare veloci non ero propriamente idonea ma lo sapevo fin dall'inizio che non ero idonea a questo tipo di salone ma non avevo molta scelta lì per lì in quel periodo quindi c'era un po' di assio tra me, la responsabile, un'altra collega che non ho ancora mai capito il perché non mi apprezzava per niente, io in sé per sé ne ero abbastanza indifferente ma quello che mi appunto dava fastidio è che si permetteva di parlarmi male, trattarmi male davanti ai clienti ragazzina di vent'anni, io ventisei ed ero da del tipo almeno un po' di rispetto in sé per sé per le persone un po' più adulte di te no neanche questo quindi niente diciamo che è stato un inizio anno un po' così così quindi ho continuato semplicemente la mia vita tra lavoro, scuola e un po' di vita personale nel mentre che riuscivo a incastrarla e arriviamo ad aprile del 2023 in cui Olly fa la sua prima crisi Olly è uno dei miei due gatti e questa crisi ne ho parlato forse una volta, non so più neanche sul canale all'epoca non sapevo esattamente che cosa fosse e forse adesso siamo giunti alla conclusione che potrebbe essere dell'epilepsia ma io non ne sono ancora sicura al 100% più che altro perché penso mi faccia strano dirmi che uno dei miei gatti abbia ma faccia delle crisi epilettiche per risumere la cosa, giorno peggiore, uno dei giorni peggiori della mia esistenza immagino lei è normale e poi a una certa fa come il voler vomitarlo e il problema è che non esce niente e che è andata davvero velocissima la cosa aveva iniziato a fare questa voglia di vomitare ma che non usciva e poi ha iniziato sempre nella posizione un po' arcata del vomito insomma a correre ovunque, un po' a sbattere e io mi ero iniziata ovviamente a preoccupare che mi dicevo sta soffocando perché non riesce a vomitare la palla di pelo non lo so e quindi la cosa davvero penso sarà durata un minuto due minuti massimo il tutto dall'inizio alla fine ma non riuscivo a respirare è caduta sul lato ha avuto degli spasmi la lingua blu quindi si, sapere se stava soffocando ed è stata penso la sua crisi più violenta la prima, almeno che ho visto io perché essendo per la maggior parte del tempo fuori casa a causa del lavoro non è che posso essere sicura al 100% quindi insomma è stato l'anno anche in cui ho visto le prime crisi di Holly e con il tempo ne fa una ogni tre mesi più o meno adesso che per fortuna sono meno intense e anche più corte però sì, insomma è stato abbastanza molto spaventoso da vedere e soprattutto lì per lì pensavo davvero sì si stesse soffocando con una palla di pelo e poi esaminando le situazioni dicendo al veterinario come si comporta eccetera ne è venuto fuori dicendo che secondo lui potrebbe essere dell'epilepsia passiamo adesso a maggio maggio del 2023 appuntamento che aspetto da più di un anno perché sì per riuscire ad avere un appuntamento con questa specialista le liste d'attesa sono molto lunghe vado da una psichiatra che è specializzata nella diagnosi del ADHD e praticamente in tre sedute conferma quello che era il mio sospetto da più di due anni in realtà ovvero sono una persona con ADHD il fatto di avere una diagnosi per me nonostante non dovrebbe essere un traguardo ma è stato un grande traguardo perché ha dato conferma del fatto che ok ci sono cose in cui anche se mi impegno al mille per mille non riesco a stare negli standard voluti insomma dalla società perché non lo so e questo insomma ha confermato semplicemente il fatto che nonostante io ci provi e ci metta tutto a messa ci sono alcune cose che effettivamente non posso gestire normalmente come farebbe insomma una persona neurotipica da qui quindi ne salta fuori il fatto che il fatto di essere lenta al lavoro è sicuramente dato dal mio ADHD che non è un fattore di lentezza in sé per sé ma è un fattore di sono un iper focus su quello che faccio e dato che il non avere la nozione del tempo che passa è una anche delle caratteristiche delle persone che hanno l'ADHD insomma mischi tutto questo insieme ti rimanda a un fattore stai 30 minuti su una persona allora che in realtà ti sembra di aver iniziato da 5-10 minuti quindi questo piega insomma la maggior parte delle mie difficoltà col tempo da lì poi con la mia psichiatra abbiamo cercato di mettere in atto un trattamento medicale ho tutti i termini francesi che mi escono in testa per questo lo dico male in italiano sendo stata da solo psichiatri qui in Francia tutti i termini tecnici li ho in francese quindi la psichiatra aveva voluto propormi un trattamento la ritalina cosa che in sé per sé non era il mio obiettivo ma mi son detta proviamo ho provato la ritalina un mese peggio che meglio insomma ne ho provato ancora una seconda per un altro mese non ha cambiato nulla anche perché non ho solo un problema con il termine di tempo o altro ma è molto più vasta la cosa una delle cose che volevamo cercare di trattare insomma con i medicinali era la gestione delle emozioni perché è qualcosa su cui fatico un sacco e insomma dato che nessuno dei due che ho preso ha aiutato in niente abbiamo ho deciso di smettere mi ha dato un terzo una terza gelul che ho provato a prendere ma poi mi sono detta no evito perché tanto voglio prima provare a vedere come va con una terapia comportamentale e quindi per adesso sto ancora senza nessun medicinale e non penso onestamente di iniziarne uno seriamente giugno c'è stato l'esame per il mio BP coiffure quindi ho dato gli esami pratici teorici ho avuto l'esame nonostante il fatto che tutti quanti nei posti in cui avevo lavorato in cui stavo ancora lavorando mi dicessero ma tanto le non lo avrò mai l'ho avuto quindi ciò che ha anche segnato la mia liberazione finalmente dal posto in cui lavoravo prima nel mentre stavo ancora continuando a fare le mie benedette guide per la patente perché sì nonostante io abbia preso avuto insomma la teoria che era settembre 2020 nel mentre appunto stavo continuando ancora a fare tutte quante le guide perché non mi usciva una caccia di data di esame per la patente e so perfettamente anche che uno dei motivi per cui ho messo tanto tempo era se per sé il fatto che non mi usceva la data e quindi non potevo il fatto che agli inizi ho avuto degli istruttori di merda uno che mi gridava addosso mi metteva più ansia che altro mentre guidavo quindi perfetto un altro che invece mi faceva fare i giri dei quartieri a vuoto senza che mi fosse per niente utile l'ultima persona appunto con cui ho preso le guide è stata la santa divina scesa in terra che mi ha davvero aiutato tantissimo professionale ma lo so solitamente un po' gentile ti diceva le cose quando non andavano bene come fare per aggiustarle ti diceva quando andava bene insomma il top per quanto mi riguarda ed uno anche dei motivi per cui ho faticato con le guide era anche la concentrazione non posso negarlo questo il fatto che a volte ero talmente concentrata su quello che avevo davanti che non facevo attenzione al lato non facevo attenzione ai cartelli che erano più sopra quindi sì questa è comunque una cosa che ho dovuto esercitare parecchio molto di più che altri immagino e quindi ecco ha rallentato ma finalmente il 29 di settembre quindi ho fatto il terzo in sé per sé ho fatto solo tre esami ho fatto il terzo esame per la patente e l'ho avuta fierissima di me 25 punti e mezzo su 30 il che in sé per sé sono molto 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 contenta di me stessa dopo aver preso la patente ho iniziato a cercare una macchina ma nel mentre siamo a settembre quindi ho ripreso anche gli studi da settembre 2023 ho appunto ripreso a fare il BTS Qua Furo quindi il livello successivo ciò che ti permette poi in un domani di essere commerciale per le aziende puoi diventare ambassador tipo di L'Oreal Svarskov Vella tutte queste bellissime cose che appunto potrei in un domani fare ho trovato un altro salone con cui poter continuare questo apprendistato il salone in cui mi trovo adesso sono molto molto contenta dove sono ora appunto mi danno l'opportunità di fare tutto se ci sono cose in cui fatico o con cui non sono ancora a 100% sicura di me stessa o mi danno più tempo o per ora preferiscono lasciare un po' da parte poi quando mi sentirò meglio insomma si riesce a trovare una quadra tutti assieme ed è verso fine settembre mi pare credo non mi ricordo più che mi sono fatta tagliare i capelli da una collega che lavorava dove lavoro adesso e che si è licenziata e e anche decolorare i capelli da lei peggiore scelta che potessi fare in tutta la mia vita per entrambe le cose perché tagliare i capelli mi sono ritrovata ad avere un casco in testa perché ho un sacco di capelli ad avere due codine così proprio streminzite perché ci è andata giù con il rasoio un po' troppo a terra avevo tipo una roba così immensa di capelli miei asciutti infatti adesso sto recuperando il taglio con Dagli che è l'altro coaffer che nel salone cioè io ero riuscita a farmeli crescere fino a qua adesso mi ritrovo di nuovo qua prima o poi riuscirò a farli fare lunghi il colore lo sto aggiustando io da sola perché non voglio più farmi toccare i capelli da nessuno perché no non è perché sei un parrucchiere che hai buone esperienze per forza con i tuoi colleghi ci sono molte esperienze cattive che ho avuto con colleghi e tra gli ultimi avvenimenti che ci sono appunto per il mio anno dei 26 ottobre ho acquistato la macchina che ho ancora adesso e fino a fine febbraio poi si vedrà ho acquistato la macchina felicissima il problema è che mi sa di essere stata un po' fregata perché il tipo l'aveva acquistata in Germania perché ci sono un sacco di casini dietro e che io per fare l'immatricolazione che non mi ricordo più come si dice in italiano comunque per avere la targa definitiva a nome mio adesso ne ho una provvisoria a nome mio ma per fare la targa definitiva devo fare tipo un kitus fiscale perché è una macchina che il tipo che me l'ha venduta l'aveva acquistata in Germania e quindi bisogna fare tutto un procedimento specifico per poterla immatricolare ufficialmente definitivamente il problema è che ci sono un po' di casini dei quali sto cercando di capire come uscirne fuori ammetto che il mese di novembre è stato un mese un po' di merda perché è là dove appunto ho capito che mi sono fatta intubare e che facevo no ne ho fatta un po' crisi di nervi abbastanza potenti il mio umore che era più basso che terra perché appunto mi sono detta adesso che mi sono comprata una macchina che finalmente tutta questa storia della patente era finita che in sé per sé è vero la macchina non è che la uso tanto ma mi è comunque abbastanza comoda per le urgenze per portare i gatti dal veterinario per fare delle commissioni specifiche e ritrovandomi qua da sola in sé per sé con nessuno della mia famiglia che ha la macchina è abbastanza comoda averne una ma con appunto tutti questi casini che sono venuti fuori ho un po' rimpianto la mia scelta perché effettivamente non so se ne uscirò vedrò in ogni caso c'è tutta una storia o un assistente giuridico che mi sta aiutando che dovrebbe cercare di risolvere la cosa non so minimamente come andrà a finire ma per ora mi sono fatta l'idea che ho acquistato una macchina per averla fino a fine febbraio e poi si vedrà al massimo penso che il peggio insomma dello scenario che possa esserci è che debba fare un annullamento di acquisto se si dice così in italiano per insomma annullare l'acquisto della macchina e al peggio mi faccio ridare i soldi e poi vedrò insomma come fare se acquistare un'altra oppure affittarne una quando mi serve e l'altra cosa invece che è successa anche ad ottobre è che ho iniziato il mio percorso di terapia comportamentale appunto con una psicologa che è specialista in questo ambito è una cosa che volevo fare da un po' di tempo ed è un qualcosa che effettivamente penso possa essermi utile ed oltre a tutto ciò nei miei 26 anni ho scoperto un amore folle non so perché per il trucco rosa make up degli occhi rosa non ne ho idea non sono mai stata una grande fan del rosa nonostante il mio colore preferito per i capelli su di me sia il magenta fucsia ma amore sfegatato per gli ombretti sfriccicosi tutto quanto rosa magenta fucsia sugli occhi un amore anche folle per i rossetti marroni che non mi era mai successo prima penso sia stato anche l'anno della mia scoperta in ogni caso del mio amore folle ancora di più per il marchio di gliss and cosmetics che è un marchio che vende cake liner e l'anno che in cui mi sono un po' più sbizzarrita forse con i trucchi colorati cosa che non smetterò di fare onestamente eh sì altra cosa che non ho detto è anche stato l'anno in cui ho deciso di boicottare per davvero sephora perché non sono molto più d'accordo con la loro politica di servizio cliente che è pessimo e che peggiora ogni giorno di più ho anche visto un sacco di anime che vi metterò magari qua sparsi alcuni un po' delle fetecce altri invece che mi sono piaciuti molto mi sto facendo tra l'altro un rewatch in questi giorni di noragami che è uno dei miei anime reconfort quindi proprio un po' come Sherlock ci sono poche anime pochi film poche serie tv che per me sono la cosa reconfortante la cosa proprio che li guardi sei sicura che ti piace ti senti bene la vita è bella tra cui appunto Sherlock la serie con benedith e noragami è uno degli anime che non so perché però mi piace molto e tra l'altro non penso che finiranno mai a fare tutto il manga in anime quindi dovrò iniziare prima o poi anche a leggerlo perché il manga credo che sia quasi alla fine diciamo che da quando ho iniziato a lavorare nel mondo del beauty quindi della parruccheria le cose non sono andate un granché perché appunto ambiente di lavoro che era sempre molto tossico per me e adesso dove mi trovo mi fa un po' più respirare in quanto amicizie sono contenta che ci siano ancora Cristiana e Marie mi spiace di non aver potuto vedere quasi per nulla insomma Samuela io la considero sempre comunque la mia migliore amica ma lei è una vagabonda del mondo le piace viaggiare dato che una volta in Australia una volta in Canada una volta qua effettivamente è un po' complicato vedersi ma se proprio c'è qualcosa di questo anno che mi sarebbe piaciuto fare di più sarebbe appunto stato vedere Sammy vedere Dennis nonostante ci sentiamo praticamente tutti i giorni insomma non ci si vede mai anche qua per un fattore di lontananza che è un po' complicato ma sì in sé per sé è stato 26 anni parlo in termini di anno perché tanto essendo nata verso fine anno posso praticamente come fare il recap totale dell'anno che è passato ma diciamo che è stato un anno con molti molti con qualche punto positivo con degli obiettivi che mi ero fissata da un po' di tempo raggiunti tra cui appunto il fatto di avere il diploma il fatto di essere diagnosticata ufficialmente così nessuno può rompermi i picoglioni dicendo che non è vero che io non sono ADHD aver iniziato una terapia aver ottenuto finalmente la patente cosa che anche quello mi ha fatto davvero molto desaspere qua si dice in francese perché appunto ero arrivato al momento come dicevo alla patente non è cosa per me tanto non ci riuscirò mai sono una che si abbatte molto facilmente ma questo appunto ho capito che è uno dei tratti caratteristici di chi appunto è 10D perché appunto basta un niente e va in down basta anche un niente e va in up per questo des règlements emozionale da un attimo vedere ma sì ho comunque comprato una macchina nonostante non so per quanto ancora ce l'avrò ma di punti positivi ce ne sono stati come di appunto punti negativi che in sé per sé possono essere considerati minori effettivamente perché boh i miei grossi problemi con la macchina al peggio effettivamente a partire da febbraio non la userò più e dovrò non so cosa fare ma farne qualcosa quello che appunto mi spiace più di tutti è stato scoprire le crisi di Holly perché effettivamente è un qualcosa che mai poi mi sono detta come nessuno penso avrò un gatto che avrà tali e tali problemi da ringraziare ancora che in sé per sé non ho ancora capito molto per quanto riguarda le crisi epilettiche in generale dell'essere umano ma poi è ancora peggio di quella dei gatti ma è comunque da tenere sott'occhio perché bisogna vedere come evolve la cosa può essere che si stabilisca può essere che diminuisca come può essere che aumenti il problema appunto sarà nel caso in cui dovesse aumentare sia in frequenza che in intensità ma si vedrà poi ed è anche per questo uno dei motivi per cui voglio prossimamente comprare poi una videocamera per l'appartamento nel caso in cui appunto quando non sono in casa posso vedere se ci sono o meno delle crisi e se per sé per il resto va bene e quindi una nuova pagina verso i 27 anni si apre oggi